Ciao ragazzi e benvenuti a un altro episodio, questa volta parliamo di cocaine hippos. No, non siamo ancora al punto in cui gli ipopotami si fanno di cocaina, ma vedremo. Ma parliamo di cocaine hippos, quelli che sono conosciuti come cocaine hippos. Perché? Allora, durante il suo impero Pablo Escobar ha importato dall'Africa quattro esemplari di ipopotami che hanno vissuto per tutto il suo dominio, il dominio del suo cartello sotto la sua direzione, hanno vissuto nella tenuta personale di Pablo Escobar che è chiamata Napoles. Lì, questi tre esemplari hanno cominciato a ambientarsi e a vivere. La tenuta è molto grande, ci sono delle acque dove tutt'oggi gli ipopotami brucano, fanno il bagno e anche uno spazio d'erba dove brucano erba e così si sono ambientati. Questi ipopotami, abbiamo detto, erano quattro. Tre femmine e un maschio. Succede che cosa? Che nel 1993, quindi 28 ormai quasi 29 anni fa, l'impero di Escobar si dissolve. E quindi tutto viene sequestrato. Tutto, ma gli ipopotami sono lasciati lì. Che cosa succede? Dunque, gli ipopotami hanno cominciato a riprodursi e quindi a perpetrare la stirpe, la specie. Non lo so come metterla. Anyway, siamo arrivati ad oggi, dopo 28 anni, ad avere 300 ipopotami. 300 ipopotami che diventeranno probabilmente qualcosa come 1400 entro il 2040. Ora, gli ipopotami non sono proprio un animale semplice come avere un gatto in casa. Sono un po' difficili da gestire. Perché? Perché sono animali che arrivano a pesare quintali. Sono animali che possono diventare molto aggressivi e molto ribelli. Quindi sarebbe un po' difficile giuderli in un recinto. E sono soprattutto difficili da gestire perché costituiscono una emergenza ambientale in quel territorio. Perché i rifiuti prodotti dagli ipopotami, in particolar modo le feggi, sono completamente tossiche per le acque. E quindi molte specie di fauna e flora vegetale, che era tipica di quelle acque, diventa inquinata e non può sopravvivere. Per questo motivo, gli scienziati colombiani hanno proposto l'idea di sterminare gli ipopotami, semplicemente di ucciderli. Vi devo dire, d'altra parte, che la popolazione ha posto una strenua resistenza. Ha posto una resistenza molto, molto forte. Perché? Perché gli ipopotami sono un animale effettivamente molto carino, al di là degli odori che possono emanare. Hanno una foto molto carina. E una faccia, un muso molto simpatico. Anche a me piacciono. E che cosa succede? Oltrepassiamo il mio commentario sulla faccia degli ipopotami. E andiamo al punto. E il punto è che gli abitanti locali hanno fatto degli ipopotami un vero e proprio business. Cioè, questa tenuta napolessa è tuttora visitata dagli stranieri, dai turisti. Perché? Perché gli abitanti sono riusciti a fare delle cartoline, dei portachiavi con gli ipopotami, eccetera. Quindi è una fonte di guadagno, numero uno. Numero due è anche una cosa positiva che è rimasta, così, se vogliamo, che è rimasta da quell'impero. Allora, gli abitanti dicono, no, 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 non li potete uccidere. Gli scienziati dicono, non ci sono altri trattamenti. Quindi li dobbiamo uccidere. In tutto questo c'è anche un Animal Legal Defense Fund degli Stati Uniti che ha cercato di far riconoscere, e c'è riuscito da un tribunale statunitense, ha cercato proprio di far riconoscere il diritto di persona proprio agli ipopotami, sostenendo che agli ipopotami non si possono difendere. Quindi devono diventare un soggetto legalmente responsabile per potersi difendere. E hanno avuto qualche successo, perché c'è stato un ruling, una sentenza positiva da parte di un giudice, Karen Ligtovitz, per cui proprio la Corte dell'Ohio li ha riconosciuti come persone giuridiche. A questo punto vi devo dire anche che questo tipo di ruling, questo tipo di sentenza, non ha conseguenze o ripercussioni su nessuna veramente delle decisioni che saranno prese in Colombia, ma potrebbe mettere un po' di pressione ai colombiani. E negli ultimi tempi qualche cosa in questa direzione si è mosso. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché gli scienziati hanno cominciato a somministrare gonacon, quindi contraccettivi, proprio agli ipopotami. Quindi sembra che ci sia stata una specie di svolta, un cambiamento in riferimento a questo, un cambiamento importante nella direzione che va di dagli contraccettivi, e dagli contraccettivi in modo tale che la finiscano di riprodursi, i poveri animali. E anche di limitare così i danni ambientali. Tutto questo però basterà a non uccidere altri esemplari. Finora ne sono stati somministrati 24 esemplari. Anche è difficile contarli perché sono un po' tutti sparsi lungo il fiume della Magdalena e nei prati. Ma questo sembra essere il piano, la strategia. Quindi, ragazzi, cerchiamo di risolvere insieme questo dilemma e vediamo chi riesce a risolverlo. Cosa fare? Questa è una gran bella domanda. Cosa fai? Uccidere gli ipopotami? Volete diventare hipposkillers? Non lo so, io non sono molto propensa a questa idea di uccidere così, ma è anche vero che ci sono delle condizioni ambientali che vanno valutate in maniera attenta. Quindi, fatemi sapere. Lasciate un commento e noi ci vediamo alla prossima volta con un altro episodio di Lo Sapevi Che. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un like, commentare qui sotto come ho già detto, e iscrivervi al canale e attivare la campanella così che potete ricevere tutti gli aggiornamenti. Noi ci vediamo, alla prossima. Ciao!